Paganico Sabino Adesso, dove ci sono le scale che ci conducono al piano superiore, un bagno completo di tutto, con doccia e nel sottoscala hanno creato un piccolo ripostiglio. Quindi abbiamo il soggiorno dove c'è l'angolo cottura. Un ampio soggiorno con divano letto, camino, che ora è chiuso però i proprietari mi hanno garantito che è funzionante. E affaccio diretto, accesso diretto sul balcone. Il balcone è ampiamente sfruttabile perché come potete vedere ci si può tranquillamente stare. La vista che si ha sul balcone è in parte interna al residence stesso, quindi affaccia sul cortile. E sullo sfondo c'è la strada comunale, il verde anche possiamo vedere. Ovviamente l'appartamento è termoautonomo, vi ho fatto vedere anche i termosifoni. Poi salendo troviamo la camera matrimoniale, soppalcata ma è ampiamente sfruttabile. Ovviamente c'è anche la finestra, eccoci qua. È immanzardata però come potete vedere in fondo è sfruttabile. Con il letto matrimoniale. Eccoci. Rivediamo il soggiorno. Ovviamente l'appartamento è dotato di tutte le utenze. Caldaia a gas diretto. Ok. Con la vista del soggiorno vi lascio ricordandovi che per ulteriori delucidazioni potete contattarci oppure veniteci a trovare sul nostro sito. Grazie per l'attenzione. Franchi Immobiliare Grazie. 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 Grazie.